Daniele Fragassa, un successo sofferto per la Cessere Socca, nonostante la doppia solità numerica e il gol di vantaggio, per cui prima storica vittoria in promozione. È vero, ci tenevamo tantissimo, abbiamo cercato di fare il meglio, abbiamo impattato bene la gara, questo mi fa veramente piacere, siamo stati veramente bravi. Santa Marinella è una squadra ostica, hanno degli ottimi individualità, quindi era un derby combattuto come poi lo è stato. Una partita molto sentita e quindi ti subito il dente, questa prima vittoria in promozione è molto importante anche in revisione delle prossime gare. È vero, è vero, è una vittoria che ci dà molto morale, eravamo carichi, abbiamo fatto insomma anche mercoledì una buona partita di Coppa, poi il Santa Marinella logicamente è stato sfavorito da doppia espulsione, al trentesimo rimanere in dieci non è facile, poi hanno perso Jacovella, insomma uno dei giocatori più importanti per loro, però hanno tenuto bene il campo, hanno tenuto bene il campo, non so che cosa è successo sul gol annullato a loro, se era fuori gioco o no non lo posso sapere, però ecco ci godiamo questa vittoria, ce la godiamo, mi fa veramente piacere, ci fa ben sperare per proseguo.